ciao siamo tornando a casa il popodamino si siamo tutti in vista del popodamino però abbiamo comprato un sacco di regalini e soprattutto hai visto righissime di inglese si è il tuo frutello che tanto tu non ci capisci niente no io ne capisco poco non hai capito i titoli ne ho capiti bravo fli per me hai imparato lingua questa è una cosa ormai ci sono andato due a comprare la franco bolle ne volevo due e me ne ha dato i quattro fortissimo non è che si può capire tutto ti cadono pure i paghi mi ha dato quelli internazionali dovevi dire queste cartoline che arriveranno penso per solare andiamo a prendere la bellissima dai dai vengo bruttissima no non si è qualcosa siamo giusti non voglio tornare alla roba perché poi devo studiare devo lavarmi i vestiti devo fare un gioco di cuore poi ormai mi ero ambientata e diciamo a tutti sorri sorri, sorri, sempre sorri poi ti dici tutto marbulati poi marm.. marbolare ho un po' un po' un po' un po' cioè un po' un po' un po' ma è i individui che fanno tutti i mindegar un besetto di mi fanno